Eccola qua, Paola, Paola che è titolare insieme appunto a Marisa di tutto questo, questa realtà del De Sica Center, Risto Pizza De Sica, quindi grazie davvero per aver ospitato i miei eventi, saremo qui anche settimana prossima per la prefinale nazionale del concorso di misciclismo, giusto giunto alla quindicesima edizione... Grazie Grazie Grazie